benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e ricambio ovviamente gli auguri. Sette allora guardi la prima domanda non possiamo fare diversamente perché poco fa un nostro ascoltatore tassista ci si lamentava di eh dei turni che il comune di Roma ha ha preparato ha ridatto per per i tassisti sono tutti in strada raccontava il nostro ascoltatore Stefano eh quando avrebbero preferito andare in ferie scaglionate visto che non c'è il lavoro. Che risponde l'assessore Beneo. Sì noi abbiamo confezionato questi turni in realtà andando in conto anche quelle che erano le le richieste sulla eh sulla lunghezza dell'ordinanza quindi in termini di tempo e poi abbiamo cercato di eh avviare delle modifiche per verificare quindi come poi sarebbero andate le cose eh i dati che avevamo o in mano sul riguardo degli afflussi turistici eh riguardo quindi le persone che sarebbero transitate in città ci hanno lasciato sperare anche rispetto a quello che era successo negli anni scorsi eh che eh il numero di attori si sarebbe stato importante che quindi anche il servizio taxi sarebbe stato eh come dire utilizzato o di più rispetto ad altri momenti. Questo è stato il criterio della scelta. allora quindi rispondiamo in questo modo c'è un ascoltatore che scrive i posteggi sono strapieni nel tassista i vigili ti mandano via magari dopo cinquanta minuti che sei lì fermo. In assoluto la situazione del taxi dei tassisti romani del servizio eh taxi a Roma come la valuta l'assessore? Com'è il servizio a Roma? Secondo lei sono molti? Sono abbastanza? Sono pochi ancora? In in questo momento insomma con organizzazione dei turni le licenze che ci sono possono essere eh gestite efficacemente rispetto eh rispetto a quella che è la domanda. Ripeto con turni che siano quindi costruiti eh eh in corrispondenza a quelli che sono anche picchi di domanda. E poi è chiaro che delle misure aggiuntive come ad esempio la possibilità dei circolari su maggiori corsi preferenziali velocizzando quindi il eh tempo di percorrenza dei taxi è chiaro che si incentiva anche il servizio e anche eh un singolo taxi può può essere per i mesi più corso e quindi diciamo che la fluidificazione del traffico è anche una condizione affinché le come dire le licenze esistenze poi possano anche eh rispondere alla domanda normale ma anche ricchi di domanda. Insomma quindi le misure su cui stiamo lavorando sono eh su diversi fronti e anche in questo mese ho ascoltato molte eh delle categorie sindacali di rappresentanti anche eh loro mi hanno portato sul tavolo molti problemi tra i quali quelli legati all'abusivismo sui quali insomma stiamo cominciando a a fare dei ragionamenti concreti. Ah beh sì sull'abusivismo quello è un è un problema serio naturalmente no? Eh non si può pensare. Sì soprattutto nelle zone di stazione. Eh certo. Poi sono zone oltretutto non nascoste quindi dove eh l'abusivo spadroneggia di fronte a tutti perché appunto eh Fiumicino assolutamente. Eh stazione Termini è anche offensivo no? Nei confronti delle forze pubbliche del del comune delle regole delle norme eh che non rispettate. Eh assessore però oggi è naturale siamo al ventinove di dicembre eh l'obiettivo anche della nostro incontro di oggi è raccontare la disponibilità e la 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 il lavoro del dei mezzi pubblici nei giorni di festa. Già è accaduto a Natale. A Natale mi pare che voi abbiate salutato eh la una novità e cioè il servizio pubblico che eh era attivo il servizio di metropolitana anche nel pomeriggio del giorno di Natale. Esatto questa è una novità importante e insomma da tempo diciamo in memore è stata attiva la metropolitana anche durante il pomeriggio del Natale questo per consentire a chi è uscito la mattina attraverso servizio pubblico di rientrare a casa ugualmente con con la metropolitana. Eh sono stata poi direttamente a fare un giro nel nel pomeriggio andando da capolina a capolina sulla sulla metro B e devo dire che alle fermate ci sono anche soprattutto quelle più centrali evidentemente c'era una una fluenza abbastanza importante. Chiaro non con i giorni lavorativi però eh ho potuto constatare con mano che è stata un'azione che la città desiderava e che ha avuto sui frutti. Di questo sono sono molto contenta. E tra l'altro insomma come dire il servizio io ero proprio a bordo ho letto sui giornali che eh si era scritto di due ore di interruzione di servizio metro ma io ero su quella metro e vi assicuro che non è stato così. C'è stato un piccolo problema tecnico di dieci minuti ma non c'è stato niente altro. Quindi diciamo è sempre bene andare a verificare sul campo come sono le cose. Quello che succede è piuttosto che affidare a volte da alcuni mezzi di informazione. Però insomma questo senza grosse polemiche. No andiamo andiamo a Capodanno. Andiamo al Capodanno 31 e primo. Allora per quanto riguarda il Capodanno come è successo negli anni passati il servizio sarà garantito in maniera integrale fino alle 21. Poi eh per quanto riguarda i bus di superficie. Poi sulla superficie questi bus saranno sostituiti con un servizio speciale. Quindi avremo diciotto linee eh che partiranno dalle zone più periferiche della città per arrivare o in centro in alcuni nodi di scambio come stazioni di metropolitana importanti quali non so termini o anche alcune fermate della metro C. Avremo anche un servizio che eh diciamo proseguirà sul sul lungo Teveri quindi diciamo che cercherà di avvicinare anche in alcune delle zone sulle quali poi saranno avviate le manifestazioni eh in vista anche del del primo dell'anno dunque della giornata anzi del primo dell'anno. Per quanto riguarda e queste diciotto linee saranno attive fino alle due trenta e e il servizio di metropolitana invece sarà continuativo quindi fino alle due mezza. Quindi fino alle due mezza avremo tutti i medie di trasporto eh attivi e a disposizione. Fino alle due e al cento per cento. Sì. Fino alle due trenta. Sì. E poi fino i bus di superficie queste diciotto linee speciali. Quindi diciamo i romani possono muoversi senza senza difficoltà. Quindi fino alle due trenta del mattino è possibile prendere il mezzo eh c'è un ascoltatore eh che scrive al trentanove trentasette novantatré 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 che proprio riguardo alla metro chiede un allungamento della disponibilità del servizio anche nei giorni feriali anche nella nel quotidiano. Fino a che ora è attiva adesso la metro? Questo dipende dal giornale durante la settimana però diciamo l'idea è quello o il weekend è già stata propongata però eh ecco l'idea è quella di di capire eh quali sono i flussi i flussi di domanda perché eh è importante sicuramente propongare il il più possibile però eh poi bisogna anche fare un ragionamento almeno a questo stadio eh di attività di capire quanto forse è sostenibile poi avere non so una forza metro alle quattro di notte però insomma su questo ci possiamo sicuramente ragionare e una cosa un passo molto importante è quello di garantire e il trasporto del nel weekend fino a un orario consistente in modo tale da consentire anche ai giovani che escono dal sera di ritornare a casa eh senza auto privata e comunque in condizioni di eh maggiore sicurezza per quanto riguarda incidenti stradali e situazioni di questo genere ecco o chi non possiede una macchina insomma eh assolutamente sì questo eh nel nel nostro piano di di azione ecco. Sì di avere anche rispetto al servizio pubblico un atteggiamento parlo dei cittadini anche di eh fiducia no? C'è il mezzo pubblico c'è il mezzo pubblico che funziona che più in assoluto assessore noi ci siamo sentiti più volte e lei stessa ha una sua rubrica di filo diretto con con i romani con i cittadini rispondendo su Facebook mi sembra no? C'è la 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 questa rubrica l'assessore risponde. L'assessore risponde sì. Ecco l'assessore che cosa le chiedono i i romani di più cos'è? Qual è la voce in cui indulgono di più i romani nelle aspettative? Beh i romani eh hanno due due aspettative grandi. Quelle di vedere il trasporto esistente eh recuperare quindi soprattutto per quanto riguarda il i bus di superficie quindi aspettare meno alle fermate eh far sì che quindi i mezzi siano più frequenti e quindi loro possono arrivare a destinazione in maniera puntuale. Questa è la prima. E poi la seconda eh l'intensificazione anche del dell'infrastruttura. Cioè ci chiedono di rendere più capillare i trasporti su Roma per quanto riguarda anche le le periferie e quindi il collegamento centro centro periferia. Eh ad esempio non so una dei dei temi più ampi è qui del del prolungamento di alcune linee metro la famosa eh la metro B per dire eh o la l'ideazione di nuove infrastrutture anche eh tram che connettano zone della città che al momento non sono ben cucite. Queste sono le le due grandi priorità. Poi è chiaro che abbiamo anche questioni legate alle alla sicurezza eh anche su questo è un tema insomma importante eh per dirti anche a capodanno sappiamo quale eh quali sono i rischi legati a una eh giornata di festa in cui ci sono molte persone in strada e per questo che anche eh tutte le persone gli autisti che lavoreranno su queste diciotto linee avranno comunque un rinforzo quindi non saranno da soli. Ah questo anche per tutelare la sicurezza. Quindi l'autista non sarà da solo. No 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 no. A tutela del del cittadino naturalmente dell'utente del fruitore del servizio e anche dell'autista. Come è andata a finire la storia dei controllori assessore Meleo? Come come va? Come sta l'esperimento che ha avuto quali conseguenze? Quali risultati? Allora anche una degli altri temi infatti su cui eh i cittadini mi fanno tante domande è questa. Come sta andando la lotta all'evasione certo. Allora quella sperimentazione del sui autisti a bordo è stata diciamo una manifestazione un tipo di segnale che abbiamo voluto dare alla città. Guardate stiamo investendo in questo perché vogliamo tutelare i cittadini onesti che pagano il biglietto perché il maggior danno anche eh all'azienda lo sa chi non paga quindi il cittadino stesso che dovrebbe invece lo soffrire e che comunque lo fa o soffrisce quindi del servizio. Per cui allora al di là di quella sperimentazione eh adesso ci sono tre soluzioni in atto. Eh abbiamo controllori sia ai capolinea quindi per il controllo di chi sale e chi scende ai capoline. Abbiamo anche tutta una serie di eh personale in circolazione nella nella città. Eh ad esempio prima passavo su Via Nomentano ho visto un bel gruppo di 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 controllori che scendevano da un bus e scendevano da un altro. Cose che precedentemente insomma vedevo molto meno di frequente. Quindi mi capiva anche andare in guantantino di verificare anche di persone che queste sputti che stanno eh stanno davanti e e nel corso dei prossimi c'eremo una recuperazione anche di e di personale in questo senso quindi da eh con il titolo di verificatore per incrementare fino a trecento il numero e oltre il numero dei verificatori eh che saranno in circolazione. Eh e questo perché pensiamo che eh si possano ridurre importanti risorse e quindi si potrà migliorare il servizio attraverso questa nostra elevazione. Quindi è una come dire è un punto fermo o anche della strategia di ATAC eh in questo momento. E per l'assessore Linda Meleo buongiorno eh sulle corsie preferenziali eh quelle appena fatte per il tram e la linea cinquantuno sono insufficienti eh e le automobili ancora invadono la corsia creando problemi come prima. Quando ripristinerete le strisce delle linee tramviarie che da tempo non esistono più e le automobili parcheggiano invadendo le stesse specie nella Movida per esempio a San Lorenzo. Io guido il tram. I controlli dei biglietti sono blandi e la domenica non ci sono tutti eh viaggiano gratis. Ci scrive questo eh autista del tram. Allora eh andiamo per eh per tutti allora sì. Il discorso delle eh delle preferenziali allora quella nuova eh diciamo che è stata presidiata da da dai vigili per un certo periodo perché in c'era un tratto in cui diciamo prima si poteva svolgere a sinistra adesso con l'attivazione di queste preferenziali quelle eh con la svolta a sinistra non è più possibile dopo piazza San Giovanni eh però eh sappiamo perfettamente che per evitare eh l'invasione delle preferenziali è necessaria la protezione quindi uno dei prossimi interventi che faremo anche durante il 2017 è quello di preleggere sia quella nuova preferenziali e andare anche a protezione di quelli esistenti quindi dei cordoli sono indispensabili per evitare proprio questo. Quindi il cordolo diciamo è la eh produzione definitiva e questo ce l'abbiamo in mente e e e la protezione è una delle azioni che abbiamo in programma eh per i prossimi mesi quindi su questo eh assolutamente poi eh ci saranno anche nuove i corsi preferenziali eh che metteremo sul campo il il prossimo anno e tutta una serie di iniziative legate alla pubblicazione del traffico. Un altro ascoltatore Angelo chiede all'assessore Meleo la differenza di costo dell'abbonamento tra Roma e Londra. Allora eh sicuramente il io sul costo credo che che Roma vinca su tutti perché il costo del biglietto se c'è un problema e ce ne sono riguardo al trasporto pubblico non è il costo del biglietto insomma no? Assolutamente no anzi è decisamente più basso di quello di Londra e vorrei precisare che tra i più bassi in assoluto perché considerate che nel nostro biglietto integrato abbiamo la possibilità di usufiorire di una corsa di metropolitana del bus di superficie anche dei treni eh negli treni Italia che transitano in città quindi quelli panorossiense a a esempio insomma verso chiaramente nell'ambito del del piano di raccorda monare quindi diciamo è un servizio integrato eh per cui direi che un euro e cinquanta è sicuramente un costo molto un costo molto sostenuto. Allora senta Roberto ci chiede anche poi torniamo proprio alle linee perché credo che oggi sia questo il tema e su questo eh il caso di di chiedere all'assessore Linda Meleo però Roberto chiede anche riguardo alla promozione di un dirigente ATAC rimosso dal precedente direttore generale Rettighieri. Non è una promozione credo che sia stata una eh una riassunzione. Lei ne sa qualcosa scrive. Poi ho letto anche chiaramente le dichiarazioni di ieri di ATAC eh c'era una causa in corso che avrebbe visto ATAC essere questo convento eh per cui si è deciso di di transare prima di avere la come dire la la condanna definitiva e semplicemente per una questione come dire di evitare costi aggiuntivi per l'azienda è stato reintegrato questo io ho preso da dall'azienda. Eh questo allora è una risposta totale insomma alla domanda no? Eh questa non è un non è una scelta dell'ATAC ma è l'ATAC a questo punto era obbligata a reinserire la persona adesso la domanda la domanda è se ed evitare dei costi sì aggiuntivi a quelli certo il discorso è adesso ma questa persona sarà valida o meno questa è la domanda insomma vera no? Se questa persona è una persona che farà poi il bene della dell'azienda oppure no? Questo è il discorso. Questo vale sia per questa persona e vale in generale. Sì vale per tutti vale per tutti è chiaro. Il principio eh che però era stato messo via per quale motivo? Sì. Le persone che lavorano sono le persone che lavorano bene ovviamente sono le persone che saranno valorizzate. Chi invece non lavora eh sanno presi con tutti i provvedimenti. Questo è il criterio. Il criterio deve essere meritocratico. Sì. Sono più i vecchi criteri che c'erano una volta sulla base dell'appartenenza politica o dell'appartenenza. Questo è un qualcosa che assolutamente l'azienda e l'amministrazione attuale dell'azienda sta archivando come logica d'azione. La domanda di Andrea non sarebbe stato meglio prolungare la metro H24 durante Capodanno? Eh questo evidentemente è stata una scelta legata sia a insomma a come è stato fatto questo aggettivo del teleservizio nel passato eh sia anche perché si è ritenuto che eh insomma chi fosse eh in giro o a notte inoltrata poi diciamo in qualche modo come negli anni passati si organizzasse anche eh anche di conseguenza. Io vorrei anche ricordare che oltre al trasporto pubblico esistono anche altre opzioni di eh spostamento. Lo ricordo sempre il car sharing è a disposizione della città. Car sharing eh comunale ma anche il car sharing eh offerto da aziende private a flusso libero per cui questa possiede sicuramente un'altra eh alternativa al al trasporto e non ricordiamoci anche che anche il servizio taxi è comunque disponibile quindi diciamo che il trasporto o in qualche modo le opzioni ci sono oltre alle linee metro e ai bus in superficie. Se qui Mary ci scrive dice a Capodanno un taxi dove lo trovi? Adesso a a sentire i tassisti io vorrei anche che magari ci ci scrivano a sentire i tassisti e beh sono tutti al lavoro in quel periodo quindi dovrebbero esserci dovrebbe esserci il servizio taxi si potrebbe chiedere in una giornata come quella soprattutto se la richiesta è alta magari un atteggiamento nei costi più conciliante ma non credo che siano così alti anche il costo del taxi e poi è un'occasione il caso di Capodanno insomma non è che i romani prendano ogni giorno il taxi se non necessario per il lavoro. Altra domanda per l'assessore Linda Meleo stiamo per lasciarla e sempre grazie naturalmente e noi contiamo di avere questi appuntamenti il più possibile proprio perché eh gli ascoltatori so e i romani apprezzano molto no più si è disponibili e più si dà l'idea di essere a servizio proprio del dei cittadini ci aspettiamo da questa giunta scrive Marco un maggior rispetto delle regole eh da parte di chi paga i biglietti e non parcheggia in doppia fila per il rispetto di queste persone cioè far rispettare le regole a chi non lo fa eh per rispetto di chi invece lo fa questo ci chiede Marco mi pare giusto atteggiamento giusto. Certo. Eh bisogna pagare il biglietto eh e bisogna quindi contrastare chi eh chi non lo paga perché chi non lo paga fa un danno come dire multipro sia nei confronti degli altri cittadini nei confronti dell'azienda nei confronti dell'amministrazione quindi sposo completamente la visione eh di questo ascoltatore e anche sul discorso della lotta alla doppia fila su questo stiamo sta mettendo proprio appunto il piano speciale se così possiamo dire straordinario con la polizia locale in modo tale da trovare delle modalità eh per disincentivare questi questi comportamenti che sono dannosissimi e che riguardano non soltanto poi il rallentamento del traffico. E inducono poi molti altri a fare altrettanto quando vedi impunità eh per quale motivo devo essere fesso io e pagare? È un altro ascoltatore eh Giovanni buongiorno le fai saluti gli auguri e e chiede se pensa di abbassare eh le tariffe dei permessi ZTL che il sindaco Marino a suo tempo aveva triplicato il costo della del permesso. Insomma su ZTL sicuramente non saranno non questo non sarà possibile dunque stiamo ripensando adesso tutto al transito le modalità quindi di accesso le modalità di parcheggio anche all'interno del ZTL centro storico e quindi nel nel corso del 2017 ci saranno anche novità in questo senso. Roberto scrive che da delibera è un tassista i turni nella notte di capodanno sono liberi è così assessore? Sì. Sono liberi quindi allora non è sicuro che ci siano tanti taxi in giro? No 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 cioè sono liberi nel senso quindi questa è una garanzia non ho i turni vincolati anzi quindi questo è un bene. Possono lavorare tutti in questo senso dice lei? Certo assolutamente. E allora un ci chiede Giovanni quando aprirete la metro C a Colosseo? A Colosseo diciamo che sicuramente non prima del 2021 ci sono ancora. Bisogna aspettare un attimo certo. Bisogna aspettare un attimo però insomma l'anno prossimo avremo sicuramente San Giovanni. Un altro ancora ci dice la chiusura però alle due e trenta della metro che è già comunque un risultato raggiunto e la riapertura alle otto lascia a piedati non pochi giusto anche giusta anche questa nota sinceramente eh non è proprio possibile intervenire ancora su questo assessore? Allora eh su questo io dico rispetto allo scorso anno eh non è stato o non sono stati ridotti gli orari eh di dei dei bus del trasporto pubblico. Chi è già in giro o alle alle dieci lo farà anche alle tre probabilmente quindi non non vedo questo questa grande come dire modifica rispetto alle abitudini del passato e poi per gli spettacoli ripeto del primo gennaio che ci saranno lungo i punti che inizieranno approssimativamente nove e mezzo a dieci il servizio c'è perché riniziano dalle otto chi poi vuole andare in centro per per gli spettacoli può farlo. Sì però per la notte non ci sono non c'è il servizio no? Per la notte. Problema arrivare la notte no? Il discorso è non è possibile proprio fare qualcosa di di più? C'è un problema anche legato almeno sui bus di superficie alla sicurezza e anche su questo bisogna eh tenerne conto o che quando si muovono un grande quantità di persone eh bisogna anche fare come dire un'analisi su mettere sul piatto costi e benefici e poi fare una scelta però ripeto tutti potranno o comunque spostarsi perché avremo taxi a disposizione che eh tutti i cittadini sanno possono utilizzare anche come dire eh collettivamente sono tre quattro amici e abbiamo il car sharing e quindi insomma non stiamo lasciando appiedati i cittadini questo questo no. Comunque il eh il piano previsto risponde esattamente a quella che sarà poi eh la domanda. Assessore Meleo noi le facciamo gli auguri di buon anno eh il il suo lavoro è un lavoro molto impegnativo naturalmente anche gli obiettivi sono impegnativi sappia che eh i romani sono prontissimi però a consegnare ad un assessore con queste responsabilità anche onore e gloria ogni volta che venga raggiunto un obiettivo che un'istanza anche di quelle più eh importanti e spinose vengano poi raggiunte eh da parte dell'amministrazione capitolina quindi noi ci aspettiamo sempre più risposte e naturalmente siamo ottimisti eh non c'è dubbio non siamo di quelli che che non fanno il tifo noi facciamo il tifo grazie grazie assessore buon lavoro buon anno